Musica Benvenuti al consueto appuntamento con 7 giorni di cronaca in settimana. Un incidente stradale costato la vita a una ragazza di 23 anni di indiprete. I funerali oggi sentiamo Enzo Di Gaetano. Rossella Forte aveva solo 23 anni, era una ragazza di Castelpetroso, ha perso la vita nella sua utilitaria Suzuki, schiantandosi contro un SUV Rexton, lungo la discesa sulla statale 17 che dal santuario porta a Isernia. Ancora incerta la dinamica del sinistro, saranno i carabinieri a stabilirla. Intanto si sa che la ragazza ha perso la vita sul colpo, mentre l'autista del SUV se l'è cavata praticamente senza ferite, rimanendo illeso. Il drammatico incidente, che ha provocato una lunga paralisi della circolazione sulla direttrice Campobasso Isernia, si è verificato intorno alle 19, quando in una curva le due auto si sono scontrate tra loro. Probabilmente l'asfalto, reso viscido dalla pioggia, è stata la maggiore concausa dello scontro frontale tra le due macchine. Chiaramente ha avuto la peggio l'utilitaria, guidata dalla 23enne di Castelpetroso, rimasta uccisa sul colpo. Sul posto i carabinieri per i rilievi, il 118 disegna soccorso e i vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre il corpo della ragazza dall'auto. Appena la notizia dell'incidente si è diffusa nel piccolo paese sotto il santuario, i familiari e gli amici della giovane vittima sono arrivati sul posto. Una tragedia incredibile, che ha scosso tutta la comunità e colpito duramente una famiglia, già purtroppo segnata da altre tragiche fatalità. In mattinata l'ispezione cadaverica all'obitorio del Veneziale, i funerali domani pomeriggio alla chiesa Madonna della Libera di Indi Prete. Nell'occasione la sindaca di Castelpetroso, Michela Tamburri, ha decretato una giornata di lutto cittadino. E si è riunito il Consiglio regionale, unica nota di rilievo, una mozione della consigliera Fanelli per bloccare il nuovo decreto Balduzzi. Ce ne parla Pasquale Di Bello. Un Consiglio regionale che sembra essere rimasto fermo al 2 novembre, giorno dedicato ai defunti, si è riunito oggi per dare corso alla solita giornata improduttiva. Sul tavolo un'agenda zeppa di ordini del giorno e mozioni, ovvero di atti di indirizzo, che non portano da nessuna parte. Dopo quelle sul commercio artigianato, rimaste nel dimenticatoio per anni e solo di recente approvate, le leggi a Palazzo Daimmo si sono fermate nuovamente. Anzi, non ci sono proprio arrivate, sepolte come sono nelle varie commissioni. Una paralisi che ha fatto sbottare il segretario del PD e consigliere regionale Vittorino Facciolla, il quale nel mezzo di un battibecco con l'ex governatore Iorio ha intonato un do di petto alla Pavarotti e ha gridato, basta qui si tira a campare solo per guadagnare un altro anno e mezzo di stipendio, andiamo a casa. Nell'imbarazzo generale nessuno ha osato dargli torto, questa l'istantanea della giornata, inframezzata dal tema sanità, unica nota di rilievo che è entrata nella discussione. Fabio De Chirico del Movimento 5 Stelle ha sollevato la questione del servizio CUP dell'azienda sanitaria regionale, alle prese con una serie di limiti e inadempimenti che perdurano dopo diversi mesi dal suo avvio e che hanno ripercussioni sui servizi ai cittadini, come ad esempio le liste di attesa. Non si è della esecuzione all'elemento fondante di tutto questo appalto e anche della pianificazione fatta dalla Regione nel lontano 2016. Era stato preso un impegno importante per fornire un software versatile, efficace per il centro unico prenotazioni regionale, in questi anni sono state fatte revoche di bandi, riunioni infinite, oggi era l'ulteriore proroga data all'azienda che ha vinto il bando l'anno scorso per fornire questo software che era l'elemento principale di tutte le prestazioni affidate e sono state paventate ulteriori scuse perché il software non c'è, ci sono cose da verificare, io credo che porterò in aula prossimamente un atto che chieda al Presidente, attuale commissario della sanità, di verificare il rispetto degli oneri contrattuali, il rispetto dell'atto pianificatorio originale del 2016 che è responsabilità della Direzione Generale di Salute. A maggio si decise di spacchettare questo appalto, assegnare solo le prestazioni correlate, quindi il call center, il front office, il back office, ma il software mancava, mancava a maggio, mancava a settembre, manca ancora oggi. Come preannunciato la capogruppo del PD Michela Fanelli ha presentato in aula una mozione che impegna il Presidente Commissario Toma, peraltro oggi assente, a bloccare in sede di conferenza Stato-Regioni l'aggiornamento al famigerato decreto Balduzzi, la cui nuova versione è ancora peggio della prima, con possibili e gravi ripercussioni sulla sanità molisana. Un nuovo decreto che modifica il famoso Balduzzi 1, ma che non migliora le condizioni in favore delle piccole regioni e dei piccoli numeri. Ovviamente su questo noi allertiamo molto il Governo regionale, il Presidente Toma, sia nella funzione di Presidente di Regione, sia di Commissario della Sanità, perché riporti le posizioni che maturano nel Consiglio regionale, che maturano con il Comitato dei Sindaci, con gli operatori sanitari del settore, su alcune questioni che lì sicuramente vanno male. Il DEA secondo livello in deroga, una serie di condizioni che riguardano la rete territoriale e altre vicende che dobbiamo, a mio modo di vedere, affrontare in Consiglio per chiedere a Toma che al Tavolo Nazionale della Conferenza delle Regioni le riporti. In caso di esito negativo rispetto alle richieste del Molise, l'espressione di un voto contrario io credo sia obbligatoria. Questo il racconto di una giornata uggiosa e carica di ubbie di un Consiglio regionale che fa concorrenza ai più potenti narcotici in circolazione. E di sanità si è parlato anche nell'ultimo Consiglio comunale di Termoli, che è durato fino a tar da sera, respinta alla mozione dell'opposizione che chiedeva l'impugnazione al TAR del POS, del piano operativo straordinario, adottato dal commissario Toma, compatta la maggioranza, agiamo contro il programma operativo da semplici cittadini. Sentiamo il servizio di Francesca d'Anversa. È durato fino a tar da sera il Consiglio monotematico sulla sanità a Termoli. Consiglio richiesto da tutta l'opposizione. Al centro la mozione che invita il sindaco Francesco Roberti e tutta la Giunta a impugnare al TAR il programma operativo sanitario 2019-2021 adottato da Toma a settembre scorso. Mozione respinta con 15 voti contrari e 9 favorevoli. Non è nulla di nuovo perché l'avevo già preannunciato nella conferenza dei sindaci che continuiamo a verificare nella riorganizzazione sanitaria il depotenziamento dell'ospedale di Termoli. Se è vero che si deve riorganizzare la sanità tenendo conto dei numeri degli abitanti che abitano in un determinato territorio e che afferiscono all'ospedale Santimotio, noi quest'anno per esempio abbiamo avuto circa 150.000 presenze certificate attraverso l'azienda d'autonomo e soggiorno, abbiamo 110.000 abitanti, è l'unico territorio della regione molise che ha i numeri necessari per in qualche maniera rivendicare la centralità dell'ospedale Santimotio. Al Consiglio in adunanza pubblica aperto dal Presidente Annibale Cerniello sono stati invitati i rappresentanti dei comitati in difesa della sanità. A prendere la parola per primo Nicola Felice, Presidente del Comitato Santimotio. La sua è una proposta chiara, un decreto Molise. Chiediamo appunto che questo Consiglio approvi una mozione dando mandata al sindaco di Termoli che poi supportata anche dai sindaci di Basso Molise propone alla conferenza dei sindaci un incontro e una richiesta ufficiale al Governo nazionale Draghi per avere un decreto Molise simile a quello già fatto per la Calabria. Compatta la minoranza, il piano operativo hanno detto nella sostanza ai consiglieri di opposizione, va impugnato perché lesivo per la sanità molisana. Per la maggioranza non bisogna dimenticare il passato, questo sarebbe un grave errore. Per il consigliere Antonio Di Brino di Fratelli d'Italia la sanità molisana è morta il 5 agosto 2015, quando l'allora Presidente Frattura non si è presentato alla conferenza Stato-Regioni per ottenere la deroca al decreto Balduzzi. Come privati cittadini e non come consiglieri abbiamo già impugnato il post al TAR perché non vogliamo che il Santimotio venga smantellato, ma l'abbiamo fatto senza clamori, ha dichiarato il consigliere Michele Marone. Non abbiamo fatto ricorso come i comuni di Termoli, abbiamo fatto ricorso come i cittadini di Termoli, ci siamo autotassati i 20 consiglieri del comune di Termoli con gli assessori e con l'Associazione Cuore Molisano. Questa dimostrazione che a noi non interessa strumentalizzare questo argomento ai fini politici è un diritto da cittadini di questo territorio avere la certezza di un ospedale che ci possa curare nel momento topico di situazioni che possono in ogni stante potersi verificare. E si è riunito a Isernia anche il primo consiglio comunale con l'elezione del presidente Paolino. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Questo è l'applauso con cui l'Assemblea Civica ha salutato l'elezione di Nicola Paolino a presidente del consiglio comunale di Isernia. Paolino ha riportato 20 voti in tutte e tre le votazioni fin quando è stata sufficiente la metà più uno dei voti. La maggioranza ha tenuto bene senza fibrillazioni mostrandosi compatta ed eleggento Nicola Paolino che era un po' il mentore di Piero Castrataro e Isernia Futura. La seduta era iniziata con l'arrivo del sindaco nell'auditorium, scelto come sede dell'assise civica per le restrizioni Covid. Emozione nel primo giorno di scuola per Piero Castrataro? Emozione sì, sicuramente non come il primo giorno di scuola, però è un appuntamento importante, atteso, bello perché è un appuntamento in cui si festeggia anche la democrazia di una comunità. Quindi va bene così. Sindaco avete trovato la quadra in maggioranza? Abbiamo trovato un accordo abbastanza ampio e questo è il primo passo, l'aggiunta sicuramente sarà allargata, non immediatamente, diciamo nelle prossime settimane. Intanto lei già ha distribuito e sta distribuendo deleghe e incariche ai suoi collaboratori principali? Lo farò a partire dalla prossima settimana, è partita qualcosa di ufficioso, la prossima settimana sarà più ufficiale. Subito dopo l'ingresso di Castrataro in aula, l'assise ha proceduto a tutte le operazioni preliminari, tra cui la convalida degli eletti e il giuramento del sindaco. Ascoltiamolo. Allora, buonasera a tutti innanzitutto e grazie di essere venuti. Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini. Non nascondo, come anche il giorno della programmazione, un tantino di emozione. Sono contento che ci siano praticamente tutti i consiglieri e credo che lo spirito della consigliatura debba essere quello di collaborare tra maggioranza e minoranza e opposizione. Insomma, una legislatura iniziata con la voglia di voltare pagina e con una maggioranza compatta. Dopo aver visto i trascorsi passati per Isernia, questo è già un buon auspicio. Ora tocca alla nuova amministrazione, targata Castrataro, mantenere gli impegni presi con la cittadinanza. In Molise sono stati scoperti 128 soggetti che usufruivano del reddito di cittadinanza, non avendone i requisiti, l'operazione dei carabinieri. I dettagli sono stati illustrati in una conferenza stampa a Chieti, nel comando della Legione Abruzzo e Molise. Dati rilevanti che riguardano la nostra regione si è raffrontati a quelli delle province abruzzesi. Circa 800 mila gli euro di reato, di truffa allo Stato. Sentiamo. Sono 128 le persone denunciate dai carabinieri in Molise, le quali hanno percepito il reddito di cittadinanza ma non ne avevano diritto. Scoperte dopo serrati controlli effettuati dal 1 maggio al 17 ottobre. 88 le persone individuate in provincia di Campobasso, 40 in quella di Isernia, 93 sono italiani e 35 stranieri. Sono 6.319 i molisani che beneficiano del reddito di cittadinanza, 3.579 le famiglie controllate in provincia di Campobasso e 535 in quella di Isernia. Nella nostra regione l'importo complessivo percepito in modo indebito e dunque la truffa ai danni dello Stato è di poco più di 844 mila euro, oltre 535 mila in provincia di Campobasso e quasi 309 mila in quella di Isernia. Denaro erogato a soggetti che in realtà non avevano i requisiti. Sono i dati riferiti appunto al Molise, illustrati nella conferenza stampa dei carabinieri nel comando della legione Abruzzo e Molise a Chieti, dal generale Paolo Aceto, quasi 2 milioni di euro di percezione in debita di reddito di cittadinanza nelle due regioni, di cui come è visto oltre 800 mila in Molise, che fa dunque registrare dati significativi se confrontati con quelli delle province abruzzesi. Uno degli obiettivi dell'operazione che è stata fatta, non solo in Abruzzo come voi ben sapete, sia proprio quello di tutelare le persone che realmente hanno bisogno di una misura di sostegno di questo tipo. I carabinieri del comando interregionale Ogaden, con giurisdizione su Molise, Abruzzo, Campania, Puglia e Basilicata, in queste regioni hanno scoperto nel complesso una truffa ai danni dello Stato di 20 milioni di euro di reddito di cittadinanza percepito indebitamente. Significative alcune irregolarità scoperte in provincia di Campobasso, come sottolineato dal comandante provinciale dei carabinieri, il tenente colonnello Luigi delle Grazie. In particolare quel giovane ragazzo che non si era dimenticato, aveva omesso di dire che nell'ambito del suo nucleo familiare possedeva tre appartamenti per oltre 110 mila euro di valore, ben al di là della soglia prevista. Non solo, più abbiamo trovato anche quattro extra comunità per settori della registra di cittadinanza irreperibili sul territorio della provincia, che avevano fatto la richiesta quando erano ospiti delle strutture ricettive dello Sprar. Dopo, una volta avuto il beneficio, avevano lasciato la nostra provincia e sono irreperibili sulla nostra provincia. Anche in provincia di Isernia dati rilevanti, come spiegato dal tenente colonnello Vincenzo Maresca, comandante provinciale dei carabinieri. Tutto l'area dell'autonoleggio, come avete visto, che oltre a prendere i reddi di cittadinanza, ha usufruito del decreto sostegno per gli imprenditori. Ci sono anche le due famiglie di Etnia Rom che avevano inserito nel loro nucleo familiare delle persone detenute, quindi non si poteva. La particolarità che vi posso dare oggi è anche di un'altra signora della provincia che ha usufruito di circa 9 mila euro, che era proprietaria di un Q7, di una 3 e che aveva fittiziamente dichiarato l'assegurazione del marito, ma quando invece viveva con lui e con i tre figli. E si è conclusa positivamente la vicenda dell'anziana di 85 anni che si era smarrita a Boiano, in una contrada di Boiano, che è stata ritrovata dopo una notte sotto la pioggia. Sentiamo Enzo Luongo. E' il momento più emozionante dopo ore drammatiche. Il marito e la figlia della donna scomparsa ieri a Boiano, in lacrime, possono riabbracciarla. Il lieto fine è arrivato stamattina alle 11, assunta 85 anni, viene ritrovata in discrete condizioni di salute tra la vegetazione, in una zona lontana quasi un chilometro dalla sua abitazione, dalla quale si era allontanata ieri pomeriggio. Probabilmente disorientata, non era riuscita a ritrovare la via di casa nella frazione di Castellone. Ha passato la notte al freddo e sotto il diluvio, la pioggia cade incessante anche quando la donna viene ritrovata. Difficilissime le operazioni di recupero e di soccorso. L'anziana è stata visitata, avvolta in una coperta termica, poi con una barella trasportata fino ad un pick-up dei soccorritori per darle una prima assistenza, infine trasferita su un'ambulanza del 118 all'ospedale Cardarelli. A dare una svolta alle ricerche i cani del soccorso alpino e i droni dei vigili del fuoco. Sotto un diluvio si è conclusa positivamente questa disavventura, è stato molto emozionante. Assolutamente sì, perché le condizioni in medio comunque erano proibitive anche per l'attività di ricerca di superficie. Noi siamo intervenuti questa notte con delle unità cinofile molecolari da ricerca, hanno dato delle indicazioni ben precise sulla direzione della persona dispersa. Il problema è che le condizioni in medio hanno preso difficile proprio l'operatività sia delle squadre del soccorso alpino che di quelle del vigile del fuoco. A che distanza è stata trovata? Qualche centinaio di metri dal punto di ultimo avvistamento. Era disorientata? Sì, assolutamente sì. Alle ricerche oltre ai vigili del fuoco al soccorso alpino hanno partecipato per ore senza sosta anche tanti volontari, oltre che ovviamente i parenti della donna. Dopo la svolta con il ritrovamento per tutti una grande emozione. Abbracci liberatori. A Termoli è stato inaugurato l'emporio solidale della Caritas per sostenere le famiglie che vivono in difficoltà economiche temporanee. Ce ne parla in questo servizio Andrea Nasillo. Un'opera a segno della diocesi di Termoli Larino che ha come obiettivo quello di sostenere le famiglie in temporanea difficoltà economica che potranno acquistare generi alimentari di prima necessità, cartolerie e prodotti per l'igiene personale della casa attraverso un meccanismo di attribuzione di punti emessi dal centro di ascolto della Caritas diocesana. La cosa importante è l'ascolto e capire come poter aiutare le famiglie non solo nel dare degli alimenti ma anche aiutarli nell'educazione dei figli in tanti altri aspetti. Queste persone, le famiglie in difficoltà che sono cresciute enormemente in questo periodo, in modo particolare nel periodo della pandemia, si rivolgeranno al centro di ascolto Caritas che a secondo delle necessità della famiglia gli verrà dato una tessera con dei punti che potranno essere spesi in un mese nell'emporio. Il progetto che segue la scia di esperienze simili sul territorio nazionale vuole dare una risposta concreta all'aumento delle povertà sul territorio diocesano. L'emporio verrà portato avanti dall'equip della Caritas con il prezioso supporto di un gruppo di volontari in collaborazione con il centro servizi per il volontariato del Molise. In occasione dell'inaugurazione è stata lanciata la campagna Adotta uno scaffale. Le comunità parrucchiali, le associazioni, i movimenti e le scuole potranno così scegliere uno scaffale da rifornire mensilmente in modo da promuovere un circolo virtuoso di solidarietà. Un tassello in più in questo servizio è alla dignità della persona perché il dono già c'è ed è diffuso, in tutte le parrocchie si fa questo gesto di condivisione attraverso la consegna degli alimenti. Ma qui è un rispetto alla dignità e alle esigenze di ognuno. Per cui questo emporio che si chiama tra l'altro tesinghe, ti dono, è una espressione del centro Africa dove è stata Suor Lidia, la precedente direttrice della Caritas e adesso anche colonna portante che ha maturato e ci ha fatto venire questo desiderio di questo luogo e anche grazie alla generosità delle Suore della Carità perché vedete questo locale che è sul punto centrale di Termole, ha sicuramente un valore commerciale. Adesso le celebrazioni dell'Unità d'Italia e la festa delle Forze Armate. Vediamo la cerimonia a Campobasso. Il maltempo non ha fermato le celebrazioni per il 4 novembre, giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate nel corso della quale Campobasso, come molte altre città italiane, ha conferito al milite ignoto la cittadinanza onoraria nel centenario della traslazione all'altare della patria. In mattinata nel capoluogo sotto una pioggia battente la cerimonia alla quale hanno preso parte le autorità civili, politiche e militari della regione con il picchetto d'onore e gli onori militari resi al prefetto di Campobasso con la zabbandiera. Un momento solenne culminato con la deposizione delle corone di alloro. Nel suo messaggio inviato a tutti i prefetti d'Italia, il capo dello Stato Mattarella ha ricordato come quattro importanti anniversari segnino la giornata del 4 novembre, i 160 anni dell'Unità d'Italia, 150 di Roma Capitale, 100 dal trasferimento al vittoriano della salma del milite ignoto e 75 anni di Repubblica. Momenti fondamentali della nostra storia, scritto il Presidente della Repubblica, l'intero popolo italiano ha proseguito, guarda con sentimenti di commozione a tutte le vittime delle guerre. La loro memoria rappresenta il più profondo e sincero stimolo ad adempiere ai doveri di cittadini italiani ed europei. La cerimonia si è poi spostata all'interno della Sala della Costituzione della provincia dove il prefetto ha dato lettura del messaggio del capo dello Stato. E qual è il messaggio che si può inviare oggi? Il messaggio è quello che dobbiamo essere degni di tutto questo, degni di coloro che hanno dato la vita per l'unità della nostra patria e mi piace ricordare che costoro sono giovani del nord e del sud che non si conoscevano ma che avevano un comune ideale dei comuni lavori. E poi dobbiamo essere degni della nostra Costituzione, dobbiamo essere degni delle nostre forze armate che ancora oggi nei teatri, per fortuna con missioni di pace, nei teatri di guerra, fanno valere il messaggio di pace e di fratellanza. E quindi ognuno di noi deve impegnarsi in quella che oggi come oggi è una guerra in atto, quella contro la pandemia, facendo il proprio dovere, osservando i propri doveri e così continueremo a servire la nostra patria e il nostro Stato. Per il Presidente della Regione Donato Toma, il 4 novembre deve essere occasione per ribadire quanto sia fondamentale l'unità per il bene del Paese, ma anche riflettere sul percorso che ha consentito di avere un'Italia libera, unita e democratica. Il Sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha invece sottolineato l'importanza delle forze armate per il sacrificio estremo e per la loro presenza costante che i cittadini avvertono al loro fianco quotidianamente. La storia conferma quanto sia necessario affrontare i conflitti nazionali e internazionali con il dialogo e l'ascolto e la volontà di ricercare soluzioni che nascano dal presupposto della convivenza pacifica, l'unica, concluse il Sindaco, in grado di generare frutti e non morti. Vediamo adesso la cerimonia invece a Isernia in Cattedrale. In questo giorno il pensiero va a quanti hanno sofferto sino all'estremo sacrificio per lasciare alle giovani generazioni un'Italia unita, indipendente e libera. E' questo il messaggio del Presidente Sergio Mattarella, letto dal prefetto di Isernia, Gabriella Faramondi, in occasione della festa dell'unità nazionale e della giornata delle Forze Armate, alla presenza dei rappresentanti del Comando Militare, Esercito Molise, del Comune, della Regione e della Provincia di Isernia. Una ricorrenza che rappresenta per tutti gli italiani l'occasione di celebrare l'unità nazionale rendendo omaggio al valore e alla dedizione nel nome della patria delle Forze Armate. E' la giornata che deve farci riflettere sul valore imprescindibile della pace. Ogni guerra è una guerra che ha comportato vittime, giovani che hanno visto spezzate le loro vite per conseguire la pace, per conseguire una situazione di serenità. Anche le nostre guerre mondiali, la prima guerra e la seconda guerra mondiale hanno comportato il sacrificio di tanti. Noi questi tanti li dobbiamo ricordare uno a uno, dovremmo tenerli impressi nella nostra memoria e soprattutto lo dovrebbero tenere impressi, io so che lo fanno, ma il mio appello è rivolto soprattutto ai giovani, perché tanti effetti negativi, tante strutture, tanti lutti che ci hanno procurato le guerre non si verifichino più nel futuro. La giornata celebrativa è iniziata con la Santa Messa celebrata nella Cattedrale di Isernia da Monsignor Camillo Cibotti. A seguire il corteo con le forze dell'ordine ha raggiunto Piazza Tullio Tedeschi per la cerimonia militare, con l'alzabandiera solenne sulle note del lino di Mameli e la deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti. Presenti alla cerimonia anche le forze di polizia, i carabinieri, le associazioni combattendistiche d'arma e la Croce Rossa Provinciale. Sì, oggi è un giorno importante per le forze armate, perché il 4 novembre è la nostra festa, festeggiamo noi e è ancora più importante perché oggi ricorre il centenario della traslazione del milite ignoto, quindi è il simbolo italiano del sacrificio di questi uomini che ci hanno dato alla fine la libertà. Ed è importante perché è la prima giornata post-Covid della nostra ripresa ed è bello ricordare anche i nostri caduti che sono caduti per il Covid nell'adempimento del loro dovere. E tutto termina qui anche questa edizione di Sette Giorni di Cronaca, grazie per averci seguito e arrivederci.